Una detassazione del 10% che punta ad aumentare la produttività delle imprese e al contempo aumentare il salario dei lavoratori. La Cisle elogia il decreto del governo che apre nuove speranze alla tanto attesa ripresa economica. Ha fatto un decreto che prevede che quando c'è lo scambio tra l'aumento della turnazione, la revisione dell'organizzazione aziendale, persino la divisione degli utili, quindi delle azioni, i lavoratori hanno diritto a un salario che viene tassato solo al 10%. E se si fa welfare aziendale, cioè se si dà dei voucher ai lavoratori per i ragazzi che devono andare all'asilinido, per la mensa e così via, c'è completo e sonoro dal pagamento della contribuzione. Si continua a puntare sull'export quello che, secondo i dati, ha fatto da Traina all'Abruzzo nel momento più difficile della crisi. Diventa così strumento per una nuova spinta l'incentivo offerto alle imprese che vogliono ampliare la produttività. Le aziende sono informate, i nostri delegati sono già preparati ad aprire il confronto, anche in alcuni casi hanno già aperto con richieste aziendali. Si tratta di rafforzare il salario, noi stiamo facendo un'iniziativa che si muove in questa direzione anche per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. A giorni ci sarà anche uno sciopero regionale che si inquadra nelle iniziative nazionali. C'è stata una manifestazione a Roma dei pensionati unitaria. Abbiamo bisogno di rafforzare il reddito delle famiglie. Se non rafforziamo il reddito delle famiglie i consumi non ripartono e solo con l'esportazione il Paese non ce la fa.